I miei mille passeranno alla storia! Per il momento non passano nemmeno la visita di leva! Terra! Ecco le coste della Sicilia! Piombo! Ecco i cannoni della Sicilia! Ma quanti sono? Almeno 4.000, generale. Per i monti di Nizza, che possiamo fare? Dito una frase storica, generale, magari le truppe si incoraggiano e combattono meglio. Ottima idea, Bigio! Senti questa! Qui si fa l'Italia o si muore? Porc! All'anime idea! Briganti! Siamo guaglioli! Guaglioli! I briganti! Scappiamo! Dio! Dio! Vedo che avete già predisposto tutto, maestà. Non si prosegue per Roma. E l'Italia non è altro che una colonia del Piemonte. Inorridisco. Come dite? Obedisco, maestà! Obedisco! 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 Grazie a tutti